La ruota spaventosa. Adesso giocheremo con dei magneti a forma di anello e creeremo un giocattolo unico. Ci serviranno dei magneti a forma di anello, una ruota e altre cose bizzarre. Il magnete si attacca facilmente alla ruota. Inserisci una perlina di plastica e un ventaglio di carta. Rilascia il magnete dall'alto. Il magnete ruoterà e scenderà lentamente. Questo farà vibrare la parte più bassa della ruota e risulterà in una rotazione del ventaglio di carta. Ripeti l'esperimento con un disco di Newton e un pezzo di cannuccia. La cannuccia rimarrà sospesa a mezz'aria grazie alla rotazione.